Guardate intanto quanto riesco ad andare in alto, non penso mai se mi servirà tutto quel cattus lì, non ho più terra nel mio magazzino Ciao ragazzi, sono Surve, benvenuti a 194, sono Surve, sono qua davanti al nostro percorso che abbiamo fatto nel periodo scorso, la strada nuova con le luci automatiche Eccole qua, abbiamo fatto tutto questo percorso qua, tutto intorno alla casa che adesso è notte e sono accese E adesso andiamo a continuare le nostre cose estetiche barra un po' redstonistiche, se così si possono chiamare In realtà ci sono tantissimi mob, quindi è meglio andare a dormire prima di evitare che qualcuno ci uccida Qua ho fatto dei buchi perché ho fatto una live lunedì, martedì scorso se non sbaglio, però non l'ho tenuto sul canale perché ci sono stati un po' di problemi con la connessione Quindi non l'ho voluto tenere perché era un po' caotica, allora l'ho tolta Comunque qua siamo in questo punto qua e devo ancora aggiornare le mappe, quindi quasi quasi prendo subito questa che penso comprende tutto quello che abbiamo fatto di nuovo In queste due mappe dovremmo riuscire a fare aggiornarle entrambe Ah, si sono già aggiornate, vedete? C'è già la parte con legno, ok, perfetto, anche questa si è aggiornata, bene, meglio così Ok, penso che possiamo metterle già giù in questo modo, ok, quindi questa era qua e questa era qua, perfetto Adesso abbiamo tutto il legno intorno alla casa e si è aggiornato tutto Adesso volevo fare anche un po' di illuminazione qua interna, come mi è scritto nel commento dell'episodio scorso Di aggiungere un po' di illuminazione automatica anche dentro la casa perché ci sono troppe torce ed sono un po' antiquate Quindi di modificare anche questa cosa, inoltre volevo anche fare altre cose da sistemare, cioè togliere questa farm qua di cobblestone, anzi di stone È una delle farm più vecchie che ho fatto, è una classica farm di cobblestone che adesso non so neanche se funziona, se faccio così dovrebbe funzionare Sì, perfetto, vedete? Si crea stone e viene spinta da quella parte Adesso forse il timer è un po' lungo, però ok, si ce la fa, vedete? Continua a crearsi stone perché è la lava che cade sopra l'acqua in verticale Crea stone e non cobblestone, comunque vabbè, adesso fermiamola, questa era la farm che avevo tempo fa, ma non penso mi serva più E se mi dovesse servire la farei molto molto più grande e efficiente Poi c'è questo lanciatore per elitra che funziona ancora, però non so se tenere perché non mi serve quasi mai Guardate intanto quanto riesco ad andare in alto molto velocemente con questo lanciatore di elitra E ok, non vedo più niente Adesso torniamo giù un attimo, che dovrei riuscire ad atterrare Perfetto, ok, dobbiamo andare di qua, vedo i beacon Eccoci qua, eravamo veramente molto molto in alto E anche questo spawner qua, questo mob grinder in realtà Non penso di tenerlo qua e potrei anche romperlo perché non è che mi serva tanto Ogni tanto sì, qua ci sono dei drop che posso raccogliere e prendere Però più di tanto non è che mi serva Questa farm di zucche e meloni in realtà devo tenerla, potrei tenerla qua Funziona ancora tutto, lì c'è una zucche che non è stata rotta Anche di qua e pensavo di trasformarla in zucche e melon, quindi angurie Ah, qua abbiamo visto appena la farm in funzione È cresciuta, il pistone è in automatico la rotta Quindi questa farm funziona ancora qua Non so perché c'è questa cosa che non funziona Togliamolo noi a mano Ah, perché è cresciuta e qua ci dovrebbe essere il seme in realtà Perché il pistone è esattamente qua Per il resto, vedete, funziona correttamente Solo che è strapiena, stracolma Questa penso proprio di tenerla Altre cose che devo tenere è quella farm di sugarcane Che devo controllare se funziona ancora perché non lo so E poi niente, qua abbiamo fatto il nostro percorso la volta scorsa Questa è la farm di conigli Che devo mettere altri conigli Qua ce ne sono pochi Sì, infatti ce ne sono pochissimi E dovrei portarne altri Quindi sono un po' di cose che voglio fare Prima del rilascio del download Che sarà il 200esimo episodio E sto cercando di fare quelle lì Inoltre non vedo l'ora che esca la 1.13 Per fare tutte quelle nuove farm Che si possono fare in quella versione E tutti gli aggiornamenti esplorativi Che si possono avere Quindi adesso faccio un po' di lavoro off camera Nello smantellamento di... Anche questa farm di cactus penso di toglierla E facciamo un po' di terraforming Perché non è che mi serva tanto Questo cactus qua Potrei tenerlo e portarlo qua dentro E lo lascio lì Nel senso, quando mi servirà potrò averlo Se mi dovesse servire ancora cactus Farei un'altra farm La farei più organizzata in un altro posto più lontano Se non sbaglio abbiamo anche altri cactus infatti Non penso mai se mi servira tutto quel cactus lì Quindi faccio un po' di pulizia E poi vi faccio vedere cosa ho iniziato a costruire A tra poco Ok ragazzi Piccolo aggiornamento E ho distrutto la farm di cactus E anche il mob grinder che era qua sopra Del mob grinder avete visto il timelapse Ma per la farm di cactus ero senza l'optifine Scusate, senza la forge Solo con l'optifine e alla fine me ne sono accorto Quando ho distrutto tutto Sono accorto che non avevo la replay attiva Comunque questa replay l'avete vista che l'ho rotta E abbiamo qua un po' di drop Ma sinceramente non è che mi servono tanto Quindi potrei anche rompere la cassa E lasciare lì i drop a despawnare E spawnare in questo modo Perfetto Inoltre adesso ho fatto un po' di terraforming Ho rimesso un po' di bone meal l'erba Ho tolto i fiori come sempre ho fatto in questa zona qua Quindi c'è solo un po' di grass E qua c'è una cavernetta che ho coperto da qualche parte Però adesso dovrebbe essere una zona molto più pulita In questa zona poi potremo farci altre cose E non lo so Non so come le spanderò Magari vorrei farci qualche cosa estetica Delle case O fare un piccolo villaggio per i villager in questa zona Che ci potrebbe stare bene Dato che non è una cosa di farm Quindi ci può stare una cosa estetica Un anello O un case un po' disordinata in questo punto E poi lasciare i villager liberi Che abbiamo nella nostra base sotterranea Intanto adesso direi che possiamo proseguire Con l'illuminazione qua sotto Dato che qua l'illuminazione non è che mi serva Che sia automatica Nel senso che non mi serve che quando è notte si accenda Ma deve stare sempre accesa Altrimenti potrebbero spawnare i mob Pensavo di fare un sistema molto semplice Cioè togliere tutte queste torce E mettere semplicemente le rampade di redstone In questi punti con sotto una torcia Perché prima volevo metterle anche qua ai lati L'avevo detto in live Ma non ci posso mettere niente Perché ci sono tanti meccanismi Ad esempio uno è qua Che c'è il sistema del autocrafting delle pozioni Qua e qua Proprio qui attaccato inizia il muro Intanto sono andato anche alla farm di Ender Dragon Di Enderman scusate A riparare la pala e tutto il piccone lascia E quindi non posso fare perché il muro è spesso uno Quindi metterò lampade a terra Tolgo le torce Metto le lampade Vediamo che effetto fa E come sta il tutto A dopo Ok ragazzi Un altro piccolo aggiornamento Ho tolto tutte le torce Ho messo le lampade qua a terra Qua ho dovuto mettere un po' sfasate perché c'è il sistema del letto automatico E anche da questa parte le ho cambiate tutte Ho messo le torce qua sotto a quel blocco lì Così da energia E un po' nascoste in questo modo Comunque stavo pensando di metterci dei tappeti in questo punto qua Cioè fare un anello del genere E al centro Tappeto verde Cioè fare questo Se non sbaglio Si potremmo anche metterlo E qua fare tutto In mezzo La lana verde Con il tappeto verde Mentre i lati Quella bianca E dovrebbe stare bene Adesso vedo di prendere un po' di lana Di entrambi i colori E faccio una piccola prova Ok Ecco messo anche l'ultimo pezzo di lana Ed ecco qua il sistema Cioè il sistema La parte estetica finita Ci sta un po' strana Perché è solo qua il verde Quindi adesso penso che ci aggiungerò dei banner verdi Qua ai lati Per non lasciare i muri spogli Oppure anche qualche quadro Se c'ha questo tipo di colore Ma non penso Quindi penso di utilizzare dei banner E non mi dispiace questa cosa qua Qua vedete che Lascio il canno si apre perché c'è il pezzo di lana E una curiosità Perché anche se c'è un qualsiasi blocco davanti alla shulker Non si apre in quel senso lì Allora mettiamo via i tappeti che non mi servono più Quindi avevo detto che mi servono delle Intanto metto giù questa Dei banner Dovrei avere già dei banner verdi Forse sì C'ho qualcosa C'ho anche dalle S di Suriv Qua In questo modo Guardate Ah no è uno scudo Ah perfetto Avevo messo il banner sullo scudo Ho dei banner bianchi Sì Verdi faccio qualche dettaglio Con del banner Bianco Utilizzando del colorante verde Che dovrei avere Sì i cardos ne ho parecchi E anche di ossa Perfetto Vado a vedere se ho della lana Ma anche quella Abbiamo il sistema dirigente della farm Quindi dovrei avere anche di quello Ne prendo un po' di stack In realtà anche questo buco qua Dell'acqua vorrei coprirlo Quasi quasi lo faccio Prendo della terra Anzi ho finito la terra Volete crederci che Non ho più terra Nel mio magazzino Perché l'ho usato un po' Da qua Da questa parte E anche in altre parti Quindi dovrò andare a farmare terra Per coprire tutto Questa è quella di mucche Da questa parte c'è Quella di pecore Che prendo un po' di lana Non ne ho tantissima Però che sto notando Non ho neanche la verde lime Di lana Vabbè Magari sto qua A FK Un po' ad utilizzarla Dato che sto registrando Questo episodio di sabato Ho anche il tempo di domani Che è domenica Per poterlo finire al meglio Quindi Faccio un altro po' di progress E ci sentiamo tra poco Ok ragazzi Ho finito di sistemare la parte sotto Ma sto notando che qua È un po' buio Quindi penso che adesso Mi metterò anche a mettere dalle torce Come vedete qua Tutte le torce che ci sono nel mio mondo Sono messe tipo Stra allineate E a fare una griglia Ogni due blocchi in diagonale di distanza Tra una e l'altra Quindi penso che adesso Illuminerò fino a tutta questa zona qua In modo che non abbiamo più Questi problemi di mob Appena usciti dal nostro magazzino Comunque vi faccio vedere la parte sotto Che l'ho finita con i painting E con i banner In questo modo qua E devo dire che ci sta molto molto bene Da questa parte ci ho messo Questo tecchio Perché c'è la parte sotto verde E richiamo un po' Il nostro pavimento qua E qua devo coprirlo No Poi stavo di lasciare la scoperta Così abbiamo la crafting table accessibile Comunque ho messo dei banner Anche da queste parti E adesso c'è molto più dettaglio di verde E devo dire che non ci sta affatto male Inoltre abbiamo tolto le nostre torce Che c'erano in questa zona Quindi questa zona è torch proof Cioè senza torce Perfetto Dormo E faccio anche quella cosa fuori In modo da avere l'illuminazione completata In tutta la nostra zona Ed evitare lo spawn di mob Quindi faccio questo lavoretto E ci sentiamo tra poco Ok torniamo verso casa Ho farmato un po' di terra ragazzi Perché non ne avevo proprio più Ne ho preso un po' di stack Adesso posso finalmente riempire Tipo quel laghetto lì Questi buchi qua Il buco che c'è lì Intanto ho fatto anche tutte le illuminazioni Come avete visto qua sopra Vedete ci sono tutte le torce Messe e allineate perfettamente A griglia Ed è una cosa fantastica Vabbè A parte questo Direi che posso andare a dormire E finire di completare La parte della terra Così faccio un po' di terraforming E finisco finalmente Tutta questa zona qua A livello terreno Quindi dormo Intanto ho bellissimo dentro adesso Questo effetto qua Tra un po' si dovrebbe aprire la bocca E posso dormire Ok terraforming Infatto ho tolto le zone d'acqua Che c'erano in quel punto lì E in questo Qua ci sono ancora degli observer Buggati Questo qua era un ascensore Abbastanza bello Però dovrei togliere Tutti gli observer E rimetterli in questo punto Perché vedete Si erano bugati tutti E adesso sta un po' così E non si riesca a sistemare Almeno il primo layer Com'è che era così Che guarda verso l'alto In questo modo Sì Ok E un pezzo di redstone Era qua Ok sì Ah qua ci sono anche le stringhe Che sono scomparse Ok E un po' tutto da rifare Questo ascensore qua Perché qua davanti c'era una stringa Così quando andavo qua Questo qua la rilevava E ci faceva arrivare Fino là in alto Adesso volevo sistemare Questa farm qua Di zucche Per renderle un po' di zucche E un po' di anguria Quindi melon Prendo questa zappa qua E direi di farne Togliere le cose tutte E andiamo a prendere Semi di Anguria Perché mi confondo sempre Perché si dice Melon in inglese E in realtà L'anguria non è il melone Comunque andiamo qua dentro Mettiamo giù un po' Di nostre zucche Che abbiamo Ne ho veramente tantissime Non so proprio che farci Però prendiamo un po' di melon Ok Perfetto E le trasformiamo in semi Ok La zappa ce l'ho Penso che me ne farò una di ferro Così almeno se mi dovesse servire Anzi no La zappa Penso non mi serva Mi servirà bone meal Per far ricrescere Anche queste qua Che pianterò Quindi perfetto Andiamo a piantare Tutti questi meloni qua In modo che abbiamo Entrambe le cose Nella nostra farm E la dividerò esattamente A metà In modo che abbiamo Entrambi i loot Ok quindi penso che lascerò Una delle due zone di melon E l'altra la rompiamo tutta Quindi questa qua La rompo E qua ci dovrebbe essere Un seme sì Ok rompiamo tutta questa Faccio così Faccio prima Perfetto Rompiamo tutto E anche da questa parte Rompo tutte le zucche In modo che possiamo Piantarci i melon seed Questo qua rompiamo Zappiamo Ok Perfetto Melon seed E No questo è un seguito d'acqua Melon seed e bone meal Così dopo li facciamo Anche crescere In questo modo Piantiamoli tutti Perfetto Anche da questa parte Ok Fatto Adesso dobbiamo solo farli crescere Ok così No questo è un po' di grass Facciamo così E facciamo crescere il tutto Ok fatto tutto Questo manca un pezzettino Se non sbaglio Ne è cresciuto uno Perché ho sentito un rumore Di quando cresceva Vediamo un po' No Sono tutte pumpkin ancora Vediamo qua dietro Ah oh mio dio Quante pumpkin ci sono Ecco infatti è arrivato Stanno arrivando melon seed Perché sono arrivati Qua dietro probabilmente Perfetto Sfruttiamo tutto questo qua Dalle zucche Perché ne abbiamo troppe 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 Anzi le butterei anche Perché se no Non ce la facciamo più Ad avere gli altri item Gli altri materiali Ok Ne prendo anche queste Lascio giusto una striscia Ma abbiamo veramente La cassa piena Dall'altra parte Quindi io farei quasi quasi così Lascerei tutto zero Ok E vediamo un po' Cosa farmiamo di più Dovrebbe essere più o meno uguale Anzi forse le melon Dovrebbero essere di più Perché ci danno Ogni zucca Uno Quasi sono i stessi tutti Anzi giusto perché è notte Perfetto di notte questa farm Non funziona Funziona solo di giorno Andiamo a dormire E dovrebbe funzionare Vediamo subito Ok è giorno Andiamo subito là A vedere com'è la farm E vediamo un po' Cosa si produce Dovrebbe funzionare tutto Vediamo se riusciamo a cogliere Qualche lampada Che si accende Perché ogni volta che si accende Una lampada vuol dire che Il sistema ha funzionato Quindi ha fatto sdroppare qualcosa Mi metto in questo punto Vediamo un po' Se riusciamo a cogliere Qualche drop di item Preferirei da questa parte Perché voglio vedere Qualche anguria Che funziona Ok Il rate dello spawn Non è altissimo Però dato che è automatica Funziona sempre Come avete visto La chest era veramente pienissima Ok Intanto arrivano cose Farei così magari Lascio Lasciamo per adesso Così com'è Poi dovrebbe andare tutto a posto Perfetto Quindi anche questo piccolo lavoretto È fatto Così così per liberare ancora più Questa zona Penso che toglierò anche Queste Chorus fruit E probabilmente anche questa farm qua Che adesso diciamo che Non è che ci serva tanto Abbiamo quella giga farm di grano Che è veramente a 10 piani E quindi non è che ci serva tantissimo Direi che potremmo Anche rompere questa Togliere queste piante qua In modo da avere Tutta la nostra zona libera E per poterci costruire Cose più estetiche In questa zona Perché non vorrei Lasciare farm in questa zona A parte quelle magari Gigafarm Tipo quella e quella Che ci sono ormai già Quindi rompiamo anche questo Così abbiamo liberato tutta la zona A tra poco Ok ragazzi Ecco mi ho fatto anche La liberazione della farm di grano Che c'era qua quella piccolina Adesso andiamo a giornare la mapa Dovrebbe sparire questa farm Questa e questa qua Dovrebbero sparire tutte E terraformarsi un po' meglio In questa zona Togliersi questo pezzo d'acqua E anche quello Il resto dovrebbe rimanere Più o meno uguale Magari quelle zucche spariranno Se prendono anche quella mappa lì Ok Perfetto Sì Ok è sparita la zucca Che c'era in questo punto qua C'era un pezzo di giallo C'è un po' di vegetazione Questo era l'altra launcher La farm qua è sparita Adesso diventerà anche Piano piano l'erba È sparita anche la farm bianca Abbiamo una grande zona Adesso ripulita Adesso in questa zona qua Faremo altre costruzioni Andiamo fuori a vedere com'è la situazione Eccoci qua Perfetto Si sta facendo anche notte Comunque Ho distrutto tutto Qua ci sono un po' di item Che ho buttato Ho rimesso le torce in posizione Tra un po' si dovrebbero Accendere tutte queste lampade qua Notturne Comunque abbiamo liberato Un bel po' della nostra zona Adesso in questa zona qua Penso proprio che andrò A fare altre costruzioni Che mi consiglierete voi Nei commenti E un'altra cosa che voglio Che mi scriviate nei commenti È In che risoluzione Guardate il video Voi di solito E se le guardate da cellulare Da computer Da televisore Non lo so Comunque ho detto Qua le lampade si stanno alzando Perfetto Perché questo penso Che sia l'ultimo episodio Che farò in 720p A 60fps Dal prossimo Se riesco Il computer regge tutto Ormai la connessione che ho Mi è abbastanza buona C'ho la fibra Fortunatamente Quindi non ho problemi di giga Che utilizzo per caricare Posso finalmente farli In 1080p A 60fps Però vorrei sapere anche voi In che risoluzione guardate i video Magari metterò anche un sondaggio Qua in alto a destra Se mi ricordo Spero di ricordarmeli Però scrivetelo anche voi Nei commenti In che risoluzione guardate Da dove guardate Cioè cellulare Computer TV E cosa volete che faccia In questa zona che ho liberato Quindi abbiamo fatto tanta distruzione In questo episodio E adesso cosa andremo a costruire Aspetto i vostri consigli E quindi anche questo episodio Direi che può finire qui Come sempre lasciate un bel mio piatto Se vi è piaciuto Commentate con i consigli Io come sempre sono Suri Ciao a tutti